La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon giovedì a tutti, bentrovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa di Uno TV. Andiamo sulle pagine del quotidiano, andiamo sulle prime pagine, vediamo quali sono i principali titoli. Il mattino nazionale parla dei dati della mortalità in tutta Italia a causa del Covid, la Campania è la regione con la più bassa mortalità per cause Covid. Vediamo infatti il titolo con cui apre il mattino, Campania il Covid uccide meno, non solo il morto in bagno, la mortalità più bassa d'Italia e anche la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva rispetto ai positivi è ben al di sotto della media. Questo il titolo e l'argomento di apertura per il mattino. Andiamo avanti. Le previsioni del Comitato Tecnico Scientifico in vista del prossimo Natale, verso Natale a più velocità, dal 4 dicembre, ristoranti aperti. E poi il focus, assistenza, le rianimazioni, oltre la soglia critica, mancano le siringhe. Continuiamo sempre sul tema Covid e ci spostiamo di fondo. La Covid narrazione, gli errori, tutti i numeri e i troppi pregiudizi. Cambiamo argomento, restiamo però in alto, andiamo negli Stati Uniti, vediamo il ritiro USA da Kabul per indebolire la Nato. Le mosse di Trump. Mentre a centropagina, per quanto riguarda i servizi sociali e l'assistenza, in particolare le fasce deboli, vediamo anziani e disabili, gli stessi aiuti al nord e al sud. La vittoria del mattino dopo le denunce manovra le nuove regole sul riparto. Ancora il retroscena, l'acconto IRPEF di novembre. Si valuta il rinvio a conto IRPEF e dichiarazione. Il tesoro studia come alleggerire il carico fiscale in vista della scadenza di novembre. Possibile un rinvio. E poi l'analisi, la legge di bilancio con basi sbagliate e senza una visione. Nella fotonotizia invece si parla di calcio. Ieri la gara di National League con la vittoria dell'Italia sulla Bosnia. Vediamo, è in signe, il faro della nazionale, pali e assist. Lorenzo trascina l'Italia in Bosnia che vince per 2 a 0. Andiamo in basso. La storia clune e lo zaino con i milioni in regalo agli amici di sempre e ai 14 che mi hanno aiutato quando ero povero. Torniamo in alto, nei box sotto il titolo di testata. Il personaggio, addio piccolo a bene, il Masterchef Junior che stregò il mondo con le sue torte. Il volume da Carosone a Tammaro con Cantanapoli, Arbore, sorride sempre. Ancora in edicola, molto futuro, ecco il periodico su high tech, mobilità e social da oggi in edicola. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Ancora prime pagine, andiamo ora sulla prima di Salerno. Vediamo, si parla sempre di Covid in primo piano. Vediamo boom contagi, l'agro è una polveriera, ancora infetti negli ospedali. Al polo di Scafati, positivo anche il dirigente di rianimazione. Tre morti a Rocca Piemonte, Nocera Superiore e Ispani al ruggi e allarme per gli addetti alle pulizie. Andiamo avanti, la giustizia ufficiale e giudiziario colpito dal virus si fermano di nuovo le notifiche degli atti. E per l'ambiente, la lettera della società Fonderie Pisano agli enti regionali ma anche a tutti gli enti comprensoriali, compreso il sindaco di Buccino, per illustrare il nuovo piano per la realizzazione di un nuovo stabilimento a Buccino, dopo che l'Asia ha dato l'ok al trasferimento del lotto, vediamo Pisano, lettera a De Luca, ci aiuti lui ad andare via. Spostiamoci di fondo l'inchiesta, Cariello dopo gli imprenditori al setaccio gli atti sul compostaggio e poi truffa milionaria sulle imposte denunciati 59 evasori. Per quanto riguarda invece le notizie di centro pagina, la scuola Odissea Tamponi solo 2 su 100 li prenotano, i presidi salernitani prudenza in queste condizioni, non riapriamo caos nel sistema regionale, molti sindaci prorogano la didattica a distanza. Ancora disagi per la prenotazione del tampone rapido, secondo una prima stima delle scuole, meno del 2% dei docenti dell'infanzia e della prima elementare sarebbe riuscito a prenotare un tampone tramite il numero verde della regione Campania nelle ultime 24 ore. Le giornate passano facendo avvicinare la data del 24 novembre, quando dovrebbero ritornare in classe circa 50.000 alunni tra scuole di infanzia e prima elementare. Andiamo avanti, le grandi opere, fermo il restyling del corso da rail, i lavori bloccati da un contenzioso, ora passano in commissione trasparenza. Andiamo in basso, forfea alla rechide, Gianna rassegnata al KO, oggi il verdetto, il DS Tosi, speriamo di non avere penalizzazioni. E poi ancora Manzolillo al vertice di Acli, voce ai diritti dei deboli, mentre Siano, il ricercatore unisatra, gli influenti del mondo. Andiamo in alto, nei box sotto il titolo di testata, l'archeologia, le catastrofi del passato, un monito per il presente, poi memorie dalla bellezza, meglio e terremotus, l'arte che libera l'uomo. Chiudiamo anche la prima pagina del mattino di Salerno, andiamo avanti, andiamo sulle cronache, in apertura si parla dei vaccini, vediamo il caos vaccini con le dosi ridotte, nonostante la grande richiesta, vediamo vaccini anti-influenzali, in una farmacia solo 11 dosi, allarme dei farmacisti, ne arrivano dall'ASL poche, mentre la richiesta è invece aumentata. Intanto mancano anche le bombole dell'ossigeno, riportatele, servono, situazione delicata a Salerno e si apre l'inchiesta. Andiamo avanti, cambiamo argomento, io e mia moglie contagiati sul lavoro a Ruggi, ASL Salerno, l'infermiere Antonio Pagano racconta la sua odissea vissuta in solitudine, consigliere comunale a Pugliano ringrazia per l'aiuto i residenti di Santa Tecla. Questo invece è il racconto per quanto riguarda l'emergenza Covid. Andiamo avanti, andiamo a Nocera Inferiore, schiaffo attorquato, quattro consiglieri di maggioranza del gruppo Nocera, coraggiosa, si astengono sul voto del rendiconto 2019, il sindaco costretto a mediare con il PD. Ancora Salerno, provincia, Celano lascia e subentra Valerio Longo, questo per il consiglio provinciale. E poi ancora gusto e sapori da Futani, le dolce delizie di Caterina, mentre a Cava dei Tirreni, Covid, l'appello di Antonella, non mi fanno vedere mio figlio. Andiamo di fondo, la lettera di Guido Pisano, basta attacchi, Parisi, aspettiamo il consiglio di Stato. E poi l'intervista, l'avvocato Aldrovanti, rito abbreviato, bene, la riforma. Questa è la prima pagina di Le Cronache, ci spostiamo ora sul quotidiano La Città, vediamo quali sono i principali titoli. In apertura si parla dei medici, della protezione civile, che dovevano richiesti dalla regione Campania per venire in soccorso al servizio sanitario regionale in questa fase di emergenza. Vediamo Campania snobbata dai medici antivirus. Questo è il titolo per la città. La protezione civile avvia la selezione per assumere 450 camici bianchi nella nostra regione. si presentano solo in 165, record dei casi positivi. Ora nel Salernitano l'indice di replicazione del contagio è tra i più alti d'Italia. Andiamo avanti nella fotonotizia. Salerno, i parchi off-limits, porte chiuse in faccia ai bimbi. E qui vediamo l'immagine del padre con il suo bambino in bicicletta, costretto a fermarsi davanti al cancello chiuso del parco a Salerno. Ancora i parrucchieri dal prefetto tagliano nelle altre città. Napoli sì, a Salerno invece no. E poi per le notizie di fondo, ancora Covid, andiamo a Sassano dove è risultato positivo il neoeletto sindaco Domenico Rubino che è anche il responsabile del reparto Covid del Luigi Curto. Vediamo infatti il titolo, sindaco infetto, il primario dell'area Covid. Sempre per la sanità e restiamo di fondo. Emergenza tamponi, maxi acquisto, ASL, comprati 80.000 kit. E poi le scuole, il muro dei comuni, c'è chi rinvia ancora il ritorno in classe. Andiamo di spalla. Salerno, Pisano offre un patto per lasciare fratte la lettera dei Pisano. E poi Eboli, sito di compostaggio, finanza al municipio. Ancora, andiamo a Nocella Inferiore, frodavano il fisco nei guai 59 persone. Ascafati invece, fitti per le abitazioni, dirigente aggredita. In basso, la storia cava al suo Harry Potter, il dodicenne Iacomino, disegna per l'ultimo libro della Rowling. Non capita tutti i giorni di figurare tra gli illustratori dell'ultimo libro della Rowling, soprattutto a 12 anni. È successo al giovanissimo cavese, Simone Iacomino, tra i vincitori del concorso veicolato dalla casa editrice Salani e promosso dalla scrittrice inglese, autrice di Harry Potter, per la realizzazione delle immagini a corredo dell'ultimo libro, La favola politica, Like Bug. E poi, Battipaglia, centri estivi in ritardo, l'aggiunta perde i soldi. Queste le prime pagine. Torniamo ora sul mattino nazionale e andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo già letto sulla prima pagina. In particolare, parliamo dei dati della mortalità in Campania. Era il titolo di apertura del mattino. Andiamo quindi sulla pagina di primo piano, proprio dedicata ai casi di mortalità in tutta Italia, con la Campania che fa registrare il tasso di mortalità più basso per Covid. Vediamo il titolo. In Campania, mortalità più bassa di tutta Italia, nonostante l'alto numero di positivi, il tasso di decesso è solo del 6,4 per mille su mille contagiati. Anche le terapie intensive sono le meno occupate, 0,22% sul totale dei positivi in tutta la regione. Fusco della Federico II, già nella prima ondata c'era stato un basso numero di morti rispetto ai malati. e poi qui vediamo lo schema in cui si vede insomma proprio il tasso basso della Campania che è il più basso rispetto a tutta Italia, la più alta invece dove si registra un maggior numero di decessi è la Valle d'Aosta con il 26,5%, la Lombardia è al 12,4%. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sulle pagine di primo piano del mattino. Parliamo del caso dei medici chiamati dei medici della protezione civile per venire in soccorso al servizio sanitario della regione in questa fase di emergenza Covid rispondono in pochi per la Campania vediamo protezione civile il bando è un flop soltanto 165 medici pronti a venire la regione aveva chiesto 450 professionisti specializzati altri potrebbero uscire dalla lista alla verifica dei requisiti il gelo di Palazzo Santa Lucia ci si augura che non ci siano rinunce specialmente tra gli anestesisti ora valutazioni a tempo di record personale in servizio fino al 31 gennaio ma il termine è comunque prorogabile chiudiamo anche questa pagina andiamo avanti restiamo sempre sul mattino nazionale parliamo ora del Natale lo abbiamo visto anche dalla prima pagina dal Comitato Tecnico Scientifico si punta alla riapertura dei ristoranti già a partire dal 4 dicembre proprio in vista del Natale vediamo il titolo alla lotta al Covid il Natale a più velocità il Comitato Tecnico Scientifico dal 4 dicembre ripartono i ristoranti il virus rallenta Emiliano chiudere solo metà Puglia Lazio e Veneto restano gialle oggi vertice tra regioni e governo che dice i parametri cambiano solo con l'ok dei tecnici nelle aree rosse rimane l'ipotesi di allentare la stretta su alcune province che risultano più virtuose e poi in basso troviamo l'intervista a Massimo Andreoni è l'ora della prudenza e della serietà le mezze misure ci portano al disastro parla il primario di Tor Vergata abbiamo fatto esplodere l'epidemia adesso serve Costanzo appena intubato un trentenne e sono stanco di questo strazio non dobbiamo mollare di un metro queste le parole dell'intervista del medico e con questa pagina ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità torneremo tra pochissimo restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo a sfogliare le pagine interne dei quotidiani le pagine salernitane andiamo sul mattino di Salerno parliamo dell'epidemia e della sanità vediamo epidemia sanitari malati e allarme il nuovo boom di positivi l'agro è una polveriera l'unità di crisi registra altri 564 contagi tutti i picchi nell'area nord della provincia di Salerno tre morti a Rocca non c'era ed il primo decesso a causa di covid ai spani scafati colpito anche il dirigente di rianimazione la vuolo della Lega serve l'ospedale da campo la CGL al Ruggi non c'è sicurezza per gli addetti alle pulizie centro pagina infetto ufficiale giudiziario chiude l'unep stop alle notifiche negativi i tamponi fatti a magistrati e dipendenti del settore giustizio un'amministrativa positiva al civile ancora un contagio tra i dipendenti della giustizia ancora una volta la seconda avviene tra gli uffici giudiziari i cui uffici si trovano tra gli ufficiali giudiziari i cui uffici si trovano a pochi metri dalla chiesa del crocifisso all'ingresso del centro storico di Salerno e andiamo ora direttamente sui territori andiamo ad Angri a tre familiari col virus attende l'aslo ormai da dieci giorni per il tampone poi a Sarno in Assar pronto soccorso accolti solo codici rossi in Assar pronto soccorso di Sarno assenza di percorsi protetti caos tra pazienti positivi sospetti casi covid e ambulanze chiude il presidio di emergenze ed ora garantisce solo assistenza ai codici rossi e quanto emerso nella giornata di ieri dopo che sabato a quanto pare il nucleo antisofisticazioni è arrivato al martiri della Villa Malta in via Sarno Striano dunque il 118 con urgenze differibili viene smistato verso altri presidi ospedalieri chiudiamo questa pagina dedicata all'emergenza covid andiamo avanti e parliamo ora invece del caso delle fonderie Pisano dopo che l'ASI ha approvato con delibera il trasferimento dell'822 alla società fonderie dell'822 della zona industriale di Buccino alla società fonderie Pisano vediamo il titolo perché dalla famiglia arriva ora una lettera di invito anche alla regione Campania oltre che a tutti gli enti competenti e territoriali per chiedere di poter illustrare il progetto dello stabilimento vediamo fonderie da Pisano l'appello a De Luca ci aiuti ad andare via i proprietari del trasferimento a Buccino pronti alla sfida luogo da condividere il processo per l'inquinamento a Fratte noi assolti altri hanno snaturato l'area infatti ricordiamo la società pare sia stata assolta perché il fatto non sussiste per quanto riguarda la denuncia di inquinamento dell'area di Fratte a Salerno l'Asi ha dato l'ok all'otto nel cratere la famiglia vuole mostrare il progetto nei minimi dettagli a sindaci e provincia andiamo avanti centro pagina fermo il restyling del corso un contenzioso blocca i lavori il caso approda in commissione trasparenza c'è il ricorso di una ditta il comune preferisce lo stop in autotutela e poi andiamo in basso dove l'arma dei carabinieri ha presentato il calendario 2021 vediamo Dante e l'arma nel calendario 2021 maresciallo donato Alighieri emblema del buon carabiniere toscano come sommo poeta e il filo conduttore trasversale tra i 12 racconti uno per ogni mese Alighieri colto al punto di conoscere a memoria l'intero poema chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sul mattino sulle pagine della provincia di Salerno andiamo nella Piana del Sele Cilento Picentini e Vallo di Diano in apertura andiamo a Evoli con il caso Cariello vediamo Cariello indagini fiume dopo gli imprenditori tocca al compostaggio blizza al comune i finanzieri acquisiscono gli atti sull'impianto consiglio convocato l'opposizione delle dimissioni non si parla e poi spaccio di droga Giffoni Valle Piana spaccio sui social pusher in cella centro pagina felitto anziano agricoltore muore schiacciato dal trattore incidente con il trattore muore un agricoltore di Castella San Lorenzo la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri intorno alle 13 e 30 in località Giuprino in agro di Felitto zona al confine con il comune di Castella San Lorenzo vittima un 82enne finito fuoristrada con il suo mezzo agricolo e poi ci spostiamo ora nel Golfo di Policastro un Golfo di Policastro martoriato dal maltempo dei giorni scorsi vediamo Golfo in ginocchio dopo il nubifragio danni per oltre 10 milioni di euro il presidente estrianese attivi per mettere le strade in sicurezza Cirielli solleciterò lo stato d'emergenza e Pierro scrive a De Luca per le notizie invece riportate di fondo scusate di spalla andiamo in provincia di Salerno dove dai banchi della minoranza ci sarà un cambio per l'opposizione lascia Celano entra Longo vediamo Celano lascia Longo entra Palazzo Sant'Agostino Valerio Longo Capogruppo di Forza Italia Battipaglia entra in consiglio provinciale al posto di Celano che lascia il suo ruolo andiamo avanti a Caggiano ponti chiusi mobilità in tilt SOS al prefetto serve un piano da una parte problemi di viabilità e dello stato di tre ponti dall'altra le problematiche di aziende del posto e del trasporto scolastico per questi motivi si è svolto un tavolo tecnico organizzato dalla prefettura di Salerno e richiesto nei giorni scorsi al comune di Caggiano alla chiusura da parte di Anas per il traffico superiore alle 3,5 tonnellate dei ponti Ficarola Massavetere e Calabri lungo la SS 19 Terra Chiudiamo questa pagina e chiudiamo il mattino ci spostiamo ora sulle cronache andiamo avanti e andiamo sulle pagine di primo piano vediamo quali sono le notizie per quanto riguarda l'emergenza Covid vediamo in particolare andiamo all'Aslo vediamo emergenza Covid 19 l'Aslo avvia gli screening per gli operatori sanitari per gli operatori delle aree a rischio elevato i tamponi dovranno essere effettuati ogni 7 giorni ecco l'elenco di chi rischia maggiormente di contrarre il virus medici sottoposti ad accertamenti microbiologici periodici rischio medio ogni 14 giorni per quelli a rischio basso invece i tamponi dovranno essere effettuati ogni 21 giorni e poi troviamo sempre su questa pagina la storia paziente con talassemia major positivo al Covid il rugge attiva una trasfusione domiciliare Mattia Mannone 47enne talassemico residente nel Salernitano ha ringraziato il personale medico del nosocomio chiudiamo questa pagina restiamo sulle cronache parliamo del maltempo nel golfo di Policastro vediamo maltempo chiesto lo stato di calamità la richiesta dei consiglieri provinciali guzzo e stanziola al presidente della provincia ingenti danni all'agricoltura alle abitazioni e alle attività commerciali stato di calamità per i paesi del basso cilento e questa è la richiesta che il consigliere provinciale guzzo e il consigliere stanziola hanno inoltrato al presidente della provincia di Salerno dopo l'eccezionale ondata del maltempo dello scorso 16 e 17 novembre che si è abbattuta sui comuni di Vibonati Policastro Capitello Centola e Palinuro che ha portato ad improvvisi e incessanti bombe d'acqua e ricordiamo che nel frattempo anche i comuni colpiti maggiormente colpiti Vibonati Ispani e anche Santa Marina hanno già richiesto lo stato di calamità e stanno raccogliendo le stanze dei cittadini per quanto riguarda i danni subiti proprio dal maltempo andiamo avanti il fatto vicinanza di Istrianese ai comuni colpiti dal maltempo da Palazzo Sant'Agostino arriva parte dell'immediata mobilitazione proprio a favore delle aree maggiormente colpite e poi la richiesta il governo proclami lo stato di emergenza nel Golfo di Policastro la richiesta del questore della Camera Edmondo Cidielli presenterò un'interrogazione parlamentare Continuiamo andiamo in basso Pol il sindaco stabilisce le regole per rasfamare cani e gatti randaggi tra i tivieti quello di dar da mangiare agli amici a quattro zampe in prossimità di esercizi commerciali e poi torchiare adesione al progetto Smart Wine Chiudiamo questa pagina restiamo sempre sulle cronache andiamo nelle pagine dedicate alle notizie della provincia di Salerno vediamo a Capaccio il caso Sprar a Licinella legittima la chiusura voluta dall'ex sindaco Goza nel 2015 il comune revocò il progetto di tutela accoglienza ed integrazione a favore dei rifugiati beneficiari di protezione umanitaria richiedenti asilo il Tardisalerno ha respinto il ricorso presentato dall'imprenditore Alessandro Forlenzo un provvedimento per il quale lo stesso Forlenza chiese un maxi risarcimento andiamo avanti a Polla sfondano la porta di un oratorio e bivaccano all'interno indagini in corso per identificare gli autori a Caggiano il sindaco la mattina serve un piano per diminuire i disagi i mezzi pesanti vietati su tre ponti della statale 19 Ter e con questa pagina dedicata alle notizie della provincia di Salerno termina la nostra segna stampa io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro TG alle 13.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata